La regione sta varando una finanziaria rigorosa, così l'ha definita il presidente Gianni Chiodi. Non ci saranno nuove tasse e non saranno aumentate le vecchie. Il giornalista scrittore Magdi Cristiano Allamma all'Istituto Superiore Pascal di Teramo per parlare di Europa. L'assessore regionale ai trasporti Gian Donato Morra ha chiesto a Trenitalia un tavolo di concertazione per discutere dei recenti tagli alle corse dei treni di lunga percorrenza. Le malattie cardiache rappresentano la prima causa di morte in Abruzzo. Teramo è però la provincia dove si muore di meno. E per lo sport calcio seconda divisione Giulianova in terra campana contro l'Ebolitana. De Patre ritrova Daniello e Zoppetti. In Serie D il Teramo ospita la Tessa Valdisangro, Arcamone parte dalla panchina, fiducia alla coppia d'attacco Bucchi Masini, il San Nicolò a Miglianico senza lo squalificato Bagnara. La Sante ospita la Vispesaro, Mister Fontana schiererà il nuovo attaccante Ragazzu. Per il basket la banca Tercasteramo domani impegnata sul difficile parquet della Bennett Cantù che in settimana ha conquistato la top 16 di Eurolega. Buongiorno, prima edizione del telegiornale di Teleponte. Buongiorno, benvenuti in apertura. Ci occupiamo di politica regionale. La Regione sta avvarando una finanziaria rigorosa. Così l'ha definita il Presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, e assicura che non ci saranno nuove tasse e non saranno aumentate le vecchie. Ascoltiamolo. Governatore, cosa prevede la nuova finanziaria regionale? Intanto sarà una finanziaria che conterrà solamente le norme finanziarie, così come deve essere una finanziaria, e non quella legge che conteneva poi di tutto e di più, come si era abituato a fare nel passato. Quindi ci sarà un collegato alla finanziaria che invece darà la possibilità magari anche di vedere delle norme che non hanno però interessi o ragioni finanziarie. Per quanto riguarda la finanziaria sarà sempre una finanziaria molto rigorosa, questo non c'è un bel dubbio. Non ci saranno nuove tasse. Nell'aumento delle tasse regionali abbiamo fatto percorsi di risanamento, però nonostante ciò le manovre che ci sono state da parte dello Stato sono state cruente, veramente molto dure per necessità e ci stanno in qualche maniera creando una riduzione dei servizi. Noi non saremo in grado di sopperire con i fondi regionali a quelli che sono i tagli del governo. Detto questo sarà una finanziaria meno lacrime e sangue di quelle magari delle due precedenti, però ugualmente rigorosa perché i tempi non consentono altro. La cronaca, quattro studenti danno vita ad una rissa nel parco della musica nel centro di Sant'Egidio alla Vibrata, ma vengono identificati e denunciati quattro giovani, tre di Sant'Egidio e uno di Civitella. Di età compresa tra i 19 e i 23 anni sono stati denunciati dai carabinieri della locale stazione con l'accusa di rissa. L'episodio si è registrato nei giorni scorsi nel frequentato parco pubblico. Al momento non sono chiare le ragioni per le quali il diverbio tra i quattro giovani sia poi sfociato in una rissa. Sferra un pugno al barista che si rifiuta di versargli da bere. Uno zingaro di Alba Adriatica, un 33enne, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Martinsicuro. Durante la serata l'uomo aveva avuto un diverbio con un barista che si sarebbe quindi poi successivamente rifiutato di versargli un'altra consumazione. A quel punto lo zingaro lo ha aggredito colpendolo al volto con un pugno. L'aggressore si è allontanato salvo essere successivamente identificato e denunciato. Mentre il barista è stato medicato in ospedale e poi dimesso con una prognosi di 10 giorni. Lasciamo la cronaca, parliamo di ambiente. Sapete tutti la notizia dei giorni scorsi dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo Economico alle società che hanno intenzione di eseguire dei controlli, delle ricerche sul territorio terramano in modo particolare per cercare petrolio e idrocarburi gassosi. Perché c'è un intervento da parte di SEL, Sinistra Ecologia e Libertà della Federazione di Teramo. Il Parco Marino del Cerrane, la riserva del Borsacchio, si legge in una nota rappresentano degli strumenti necessari per impedire l'avvio delle perforazioni petrolifere da parte della multinazionale Medoil Gas di Roma nei comuni di Pineto e Rosseto degli Abruzzi. Le perforazioni petrolifere provocherebbero non solo uno scempio ambientale, fa sapere SEL, e danni irreversibili al turismo molto legato alla spiaggia e al mare, ma anche ai prodotti tipici della pesca locale nonché dell'agricoltura in quanto ci sono altri comuni interessati come Teramo, Bellante, Canzano, Castellalto, Cellino Attanasio, Cermignano, Mociano, Sant'Angelo e Notaresco. E' quindi necessario salvaguardare l'Abruzzo, regione dei parchi, dalla deriva petrolifera. Il giornalista scrittore Magdi Cristiano Allam all'Istituto Superiore Pascal di Teramo questa mattina per parlare ai ragazzi dell'Europa. Sentiamo. Il pericolo di una nuova caduta dell'impero romano d'Occidente come una volta c'è, esiste, è reale? Ma ci sono tanti sintomi che devono preoccuparci. Non solo la crisi strutturale della finanza internazionale in Europa dell'euro, che evidenziano il prevalere di forze speculative che sono totalmente indifferenti alle conseguenze di tutto ciò nel nostro vissuto, nel nostro presente e nel futuro dei nostri figli. all'aspetto demografico, che non è meno importante, dove l'Europa è una realtà destinata a scomparire per il fatto che ha il più basso tasso di natalità al mondo. E purtroppo l'Italia all'interno dell'Europa ha il più basso tasso di natalità europeo. Il crollo dell'impero romano iniziò proprio dal dato demografico, perché il non essere interessati a perpetuare la vita coincide con una concezione edonistica della vita, dove la persona viene ridotta a cosa? A soggetto produttore e consumatore, e dove vengono meno anche quelle regole che hanno un'attinenza con l'etica. Siamo in piena guerra, non armata ovviamente, ma culturale. Come ci si difende? Io credo che noi dobbiamo innanzitutto non rinunciare al diritto e al dovere di usare la ragione per rappresentare correttamente la verità, avere la certezza di chi siamo radicando in noi dei valori solidi, dei valori non negoziabili, ed assumere costruttivamente delle iniziative che vadano nella direzione della riforma etica della cultura politica, di un nuovo modello di sviluppo che mette al centro la persona e non la moneta. Noi dobbiamo invertire questa realtà e ripartire dalla persona, dalla famiglia naturale, dalla comunità territoriale, e fare in modo che la materialità sia al servizio della persona e non la persona schiava della materialità. L'assessore regionale ai trasporti, Giandonato Morra, ha chiesto a Trenitalia un tavolo di concertazione per discutere dei recenti tagli alle corse dei treni di lunga percorrenza. Il servizio. Assessore, quanto incideranno sui viaggiatori i recenti tagli decisi alle corse di lunga percorrenza? Guardi, in questo momento c'è una fase di interlocuzione anche abbastanza dura fra noi e l'attuale governo di Trenitalia. Noi non accettiamo questi tagli per un semplice motivo. Trenitalia ha agito senza sentire nessuna regione, anzi una puntualizzazione va fatta. Qua non si tratta di tagli sull'Abruzzo, si tratta di tagli su tutta la Lidia Adriatica. Sono partiti dalla Sicilia, la Calabria, la Puglia e tutto un discorso orientato su questa fascia costiera. E quindi anche alcune polemiche che parlano solo di Abruzzo veramente sono strumentali e sono da rimandare al mittente. Come regione Abruzzo non accettiamo questa cosa. Noi in primis imputiamo un discorso. Quando ci sono queste scelte da parte di Trenitalia le regioni dovrebbero essere sentite almeno a livello consultivo. Questo non è stato fatto e non è più accettabile. Perché poi le ricadute vanno sugli enti locali ma vanno in primis sull'utenza. Trenitalia ieri ha fatto un comunicato dove comunque giustifica questa cosa, la specifica come miglioramento di alcune linee. Noi chiediamo questo adesso. Un'interlocuzione che ci porti Trenitalia a livello unilaterale a spiegare quello che ha fatto, quali sono le migliorie, quali sono le finalità. Perché non lo possiamo certo scoprire dalla lettura di un freddo orario di trasporti. Chiediamo che venga fatto un tavolo di concertazione con le regioni ma chiediamo anche in primis noi e la regione Marche e stiamo aspettando anche, non so se è stato nominato, il nuovo assessore del Molise per fare un'opera congiunta. Le malattie cardiache rappresentano la prima causa di morte in Abruzzo. Nella speciale classifica la provincia di Teramo è però quella nella quale, tale fattore di rischio, presenza l'incidenza minore. Insomma, in provincia di Teramo si muore di meno. Vediamo. Sono le malattie cardiovascolari la prima causa di morte, la principale causa di ricovero ospedaliero in Abruzzo e quanto emerge dai dati della Società Italiana di Cardiologia. In base agli ultimi numeri pubblicati dall'Istat, in regione su 13.475 decessi ben 5.455 sono stati provocati da malattie del sistema circolatorio e 3.462 da tumori. La provincia dove le malattie del sistema circolatorio hanno fatto più vittime è stata quella di Chieti. Ci sono poi l'Aquila, Pescara e Ultima, Teramo. In tutta Italia, Abruzzo compreso, pur restando la prima causa di mortalità, le malattie cardiovascolari fanno meno vittime. Tra il 2003 e il 2007 in Abruzzo il tasso di mortalità per malattie del sistema circolatorio fa registrare un meno 6,8% ogni 100.000 abitanti. In Abruzzo in un solo anno i ricoveri legati a malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio sono stati 39.208, dei quali 3.047 per infarto miocardico acuto. Tra le tante plausibili preoccupazioni legate alle malattie cardiovascolari, spiega in una nota il presidente della Società Italiana di Cardiologia, Salvatore Novo, si segnalano la paura di perdere il posto di lavoro, la mobilità, l'ansia di non arrivare alla fine del mese, le notizie sui grandi cambiamenti nel sistema pensionistico. Noi cardiologi, argomenta, vediamo sempre più italiani alle prese con batticuori legati a stati ansiosi. E poi ci sono le forti emozioni. Basti pensare alle scommesse che stanno aumentando, alle aspettative che un pensionato mette nel gratta e vinci, al quale tutte le mattine affida il suo futuro. Nelle giornate del 12 e 13 dicembre prossimo si terrà a Pescara nell'auditorium De Cecco, in Piazza Unione, il congresso dal titolo dal piano di rientro al piano di sviluppo. La sanità abruzzese si confronta con il resto del paese, tra rispetto del rigore e ricerca di innovazioni. Nel professor Giustino Varrassi, direttore generale dell'ASL di Teramo, sarà relatore nella mattinata di lunedì prossimo. Nel pomeriggio dello stesso giorno è previsto l'intervento del ministro della Salute, Renato Balduzzi. Occupiamoci adesso dell'aumento dell'IRPEF. Il Partito Democratico chiede che anche il comune di Teramo attui quanto previsto dal decreto 138, che consente alle municipalità di applicare le tariffe a scaglioni il servizio. Venerdì in Commissione Comunale si parlerà del tanto temuto aumento dell'IRPEF, perché appunto viene portata questa delibera. Sì, già l'Aggiunta ha approvato una delibera con cui ha dichiarato l'intenzione di aumentare l'addizione dell'IRPEF e farla passare dallo 0,5 allo 0,8, quindi un aumento particolarmente significativo del 60%. Adesso questa proposta di modifica arriverà in Consiglio Comunale venerdì in particolare in Commissione. Noi ci siamo già espressi su questo punto, riteniamo che si tratta di un'ulteriore scelta dell'amministrazione che va di fatto ad incidere nuovamente, pesantemente, sulle tasche dei cittadini di Teramani. Noi abbiamo già chiesto nell'ultimo Consiglio Comunale che quantomeno si utilizzassero dei meccanismi correttivi e nella logica dell'equità sociale. Cioè, se proprio si vuole aumentare l'addizione all'IRPEF, così come lo si fa, non lo si faccia con una liquota unica che colpisce in modo indifferenziato tutti i cittadini, ma si differenzi sulla base dei redditi dei singoli cittadini, in particolare esentando i redditi più bassi e prevedendo ulteriormente degli scaglioni, cioè dei meccanismi che consentono l'applicazione di questa addizionale, quantomeno con i criteri di progressività, così come richiede d'altra parte la nostra Costituzione, in modo tale che questo aumento, questo ennesimo aumento da parte dell'amministrazione comunale, non incida in misura indifferenziata nei confronti di redditi diversi e quindi colpendo indistintamente e conseguenzialmente colpendo di più chi ha un reddito più basso, perché di fatto va ad incidere in modo più significativo verso chi ha i redditi più bassi. Quindi noi rinnoviamo questa richiesta all'amministrazione e ci auguriamo che questa richiesta venga accolta. Ci trasferiamo, ci spostiamo ad Ancarano, in Val Vibrata, perché in virtù di una precedente convenzione con la provincia, l'ente ha avviato i lavori di rifacimento del manto di asfalto in alcune strade cittadine. A gennaio invece sulle stesse strade saranno avviati dei controlli alla circolazione stradale con l'ausilio dell'autovelox. Il servizio. Il rifacimento del manto di asfalto rientra in un congetto più ampio di sicurezza stradale. Sotto questo punto di vista il Comune di Ancarano ha il procinto di utilizzare anche l'autovelox? Sì, la Polizia Municipale si è dotata di autovelox. Questo può essere uno strumento di prevenzione, non di repressione, chiaramente, nei confronti dei cittadini, ma purtroppo si rende necessario l'utilizzo anche di questo mezzo dovuto al fatto anche a seguito dell'indisciplina di alcuni automobilisti su alcuni tratti di strada molto importanti. quindi sarà data ampia comunicazione preventivamente con una mia lettera rivolta a tutti i cittadini e poi sarà pubblicato comunque il calendario sul sito internet del Comune e sarà messo anche nelle bacheche delle preposte del Comune appunto per informare i cittadini i giorni e l'ora in cui sarà utilizzato questo strumento. E adesso è il momento della nostra rassegna stampa in video. Sabato 10 dicembre 2011, il centro Teramo, il terreno dell'inchiesta Valla Caritas e al centro del maxiprocesso Avventuroni e Dizio adesso produce l'olio per i poveri. Delitto rea, la sorella di Parolisi sentita per quattro ore. Cronaca muore mentre aspetta il trapianto, il titolare di uno storico bar di Martinsicuro era ricoverato a Padova. Giulianova, sindaci uniti per salvare l'ospedale, gli amministratori chiedono di vedere subito Chiodi e Varrassi. Il governatore, per parlare di sanità, Mastro Mauro deve venire da me. La città, sanità, a Teramo il cuore uccide di meno. Le malattie cardiovascolari colpiscono meno che nelle altre province. Artigianato, Teramo, il successo del mercatino dell'antiquariato potrebbe partorire una piazza artigiana. Sindacale, c'è troppa burocrazia nella sanità. La CGL attacca la ASL. Per avere i pannoloni e il letto con le traverse servono mesi. Alba Adriatica, pestato a sangue davanti alla stazione. La vittima, un 44enne, Teramano. Il messaggero, delitto rea, la sorella di Parolisi, ascoltata per quattro ore. Ha fornito chiarimenti su aspetti chiave. Castrogno, scoppia, in cella arriva la terza branda. Giulianova, ospedale, assise straordinaria. I sindaci, sia al Consiglio, ma con Chiodi e Varrassi. Alba Adriatica, picchiato da stranieri e in gravi condizioni. Rifiuti, sogesa, i comuni non pagano. Salvati solo da Giulianova. Il tempo, omicidio rea, Parolisi, raccontato dalla sorella Lucia. Chiariti alcuni episodi riguardanti il rapporto tra Salvatore e Melania. Solidarietà, la Caritas produce e vende olio per i poveri. Alba Adriatica, un uomo picchiato selvaggiamente vicino alla stazione. Sanità, disabili senza assistenza. Le famiglie spesso si indebitano per poter comprare pannoloni. Previsioni per oggi in provincia di Teramo. Giornata caratterizzata dalla presenza di annuvolamenti lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni rilevanti da segnalare. Sulle aree collinari e litorane, alternanza tra schiarite e annuvolamenti a causa del transito di innocue velature o stratificazioni medio-alte. Temperature in lieve ulteriore aumento, massime comprese tra 17 e 20 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 16 e 19 gradi sulle coste, venti deboli o moderati meridionali, mari quasi cali. Ed eccoci alla pagina sportiva, cominciamo con il calcio. Il Giulianova torna in campo domani a Deboli dopo il turno di riposo. Mister De Patre ritrova Daniello e Zoppetti, mentre Piccore e Pirelli sono in lizza per una maglia da titolare, accanto a Morga il servizio. Il Giulianova torna in campo dopo il turno di riposo per riprendere la corsa verso una tranquilla salvezza. La pausa ha permesso a Mister Tiziano De Patre di recuperare giocatori importanti come Zoppetti al rientro dopo quasi due mesi e Daniello che ha smaltito i postumi di un infortunio rimediato durante il riscaldamento nella trasferta di la mezzia terme. In difesa dunque si ricompone la coppia dei centrali, Zoppetti-Terrenzio, mentre a dettare i tempi della manovra giallorossa sarà appunto Daniello, chiamato a sostituire in cabina di regia ad Alessandro, appiedato per un turno dal giudice sportivo. Salterà per squalifica la sfida anche della penna. In attacco di sicuro il tecnico giallorosso si affiderà a Morga da scegliere l'altra punta che dovrà affiancarlo. Piccone in vantaggio su Pirelli, anche perché il centravanti Regino ultimamente ha giocato su buoni livelli, mettendo a segno anche Tre Reti. Sarà un Giulianova dunque a trazione anteriore, perché De Patre non rinuncerà a Carbonaro, affidandogli la fascia destra. Torna disponibile anche il portiere Merletti, da decidere se schierarlo tra i pali o affidargli la casacca numero 12, con Sorrentino in campo dall'inizio. Non ci sarà invece Rinaldi, i cui tempi di recupero non sono brevi. Il giovane centrocampista giallorosso dovrebbe tornare a far parte del gruppo forse tra un mese. A proposito di giovani, tornano disponibili Recchiuti e Di Michele, che hanno smaltito i rispettivi infortuni. Per Mister De Patre la sfida contro l'Ebolitana, penultima del girone di andata, è da considerare come uno scontro diretto per la salvezza. Contro la formazione campana, i giallorossi tenteranno il colpo a sorpresa per mettere altro fieno in cascina, in attesa dei punti di penalizzazione che sembrano inevitabili, dopo che la società ha pagato con una settimana di ritardo gli stipendi. Adesso il campionato di Serie D, il teramo capolista è di scena domani al nuovo stadio di Piano Daccio per ospitare la Tessa Valdisanglo. Il San Nicolò sarà impegnato in trasferta a Miglianico, non ci sarà il difensore centrale Bagnara al suo posto, dovrebbe giocare Casalese, mentre la Sant'Egidiese riceverà la Vispesaro per i giallorossi di Mister Gaetano Fontana. C'è la novità in attacco, ovvero ragazzo che è stato tesserato poche ore fa. Facciamo il punto con questo servizio. Il campionato non conosce pause e tra movimenti di mercato che stanno ridisegnando la fisionomia di alcune squadre e la terza giornata in appena una settimana, il girone di andata è ormai giunto alla capolinea. Domani nel girone F della Serie D si giocano infatti le gare della sedicesima giornata. La capolista Teramo, reduce dal pareggio in rimonta a Riccione, riceve la visita della Tessa Valdisanglo, che ha vinto quattro delle ultime cinque gare. Per il diavolo la gara di domani ha un valore anche in prospettiva, anche perché precede di una settimana lo scontro diretto sul campo dell'Ancona, l'unica squadra capace, numeri alla mano, di contendere la leadership ai biancorossi. Arrivare alla partita del Dorico con l'attuale vantaggio di 6 punti è un obiettivo per la truppa di Cappellacci, che domani ritroverà anche Arcamone, che partirà dalla panchina. Il successo di giovedì con il Real Rimini ha ridato fiato al San Nicolò, che però è chiamato a fornire conferme più tangibili sul proprio stato di salute. I biancazzurri, che stanno cambiando pelle per via della rivoluzione di mercato, domani saranno impegnati a Miglianico. Mancherà il difensore Bagnara, appiedato dal giudice sportivo. Anche la Santigidiese, che in questo frangente non riesce a dare continuità ai risultati, è attesa da una partita importante e da un avversario, la Vispesaro, che è una delle formazioni più brillanti del raggruppamento. Fontana potrà contare sul nuovo arrivo, l'attaccante Mauro Ragazzo, che sarà impegnato sin dall'inizio. Tra i giallorossi mancherà Coccia, mentre in dubbio l'impiego di Damore. Il Mociano ha messo sotto contratto Marco Villa, ex centrocampista del San Nicolò, e Alberto Bianchini, richiamato dal Cologna Paese. Entrambi saranno in campo domani, contro il Vasto Marina. Il basket adesso, perché domani c'è un impegno molto importante per la Banca Tercas Teramo, che è già partita la volta di Cantù, giocherà contro la Bennett di Cocci e Trinchieri. Ricordiamo che la Bennett ha conquistato la fase successiva dell'Eurolega, quindi è una delle 16 migliori formazioni in Europa. La gara sarà trasmessa, ovviamente la gara Bennett-Cantù, Banca Tercas Teramo, sarà trasmessa su Teleponte, con collegamento diretto, a partire dalle 17.45. Adesso noi ascoltiamo il tecnico bianco-rosso, Alessandro Ramagli. Conosciamo le loro qualità, sappiamo anche che avere energia risulterà decisivo in una partita di questo tipo, perché è l'unico argomento nel quale puoi realmente competere con loro, quindi addirittura puoi anche sopravvanzarli da quel punto di vista. Quindi credo che questo sia il punto di partenza per giocare una partita importante raggiù. Teramo deve appunto partire da quell'energia messa in campo domenica contro Pesaro. Sì, no, deve partire dall'energia che metterà in campo una partita contro Cantù, che quella contro Pesaro è ormai finita, non ci abbiamo più pensato già da un bel po' di tempo, dobbiamo semplicemente partire dall'energia, perché questo è l'argomento fondamentale per essere competitivi su un campo come quello. Se poi vogliamo contare lunghezza di organico, qualità, presenza fisica, esperienza, questa mentalità vincente, cioè non entriamo neanche in campo. Quindi credo che sia fondamentale invece utilizzare questo strumento che in altre occasioni è stato indigesto a loro, e quindi fondamentale sarà averlo dalla nostra parte. Un pensiero ce l'avrà al fatto che quella sarebbe potuta essere la sua panchina? No, no, guardo assolutamente. A parte non sarebbe stata la mia panchina, sarebbe stata la mia squadra, intesa come far parte di un progetto e di un gruppo. Però no, no, veramente non ho nessun tipo di rimpianto, io non mi guardo mai indietro. E adesso la palla a mano, la Tecno Elettronica torna in campo oggi al Palagiorgio Binchi per l'ultima gara a Casalinga dell'anno. La squadra di Fonti, reduce da due sconfitte consecutive, ospiterà il Pressano, una matricola che occupa però il secondo posto in classifica. La sfida avrà inizio alle ore 19. Ed è tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito. Io vi ricordo l'appuntamento con l'informazione Flash, il TG Flash alle 17.30, poi la seconda edizione di Primo Piano alle 19.15. È davvero tutto, arrivederci, buon fine settimana. a presto. a presto. a presto. a presto. a presto. Grazie a tutti.